Le tecniche dell'apnea per gestire la respirazione e l'ansia. 18 olimpionici si sono allenati così. Il suo mondo è su una pedana con un fioretto o una sciabola in mano. Ma per la sua terza olimpiade, a 33 anni, Arianna Errigo ha deciso di prepararsi in acqua con una sequenza di esercizi e allenamenti veramente unici. Arianna ha vinto in carriera due titoli mondiali nel 2013 e 2014. L'oro olimpico a squadre e l'argento individuale nel fioretto ai giochi di Londra. Ed ora insegue il sogno di un'altra medaglia provando i suoi movimenti e le sue stoccate sott'acqua trattenendo il fiato. Sotto la guida attenta di Mike Maric, ex campione di apnea e medico specialista in scienza del respiro, Arianna ha seguito così una metodologia di allenamento particolarissima nella piscina termale Y-40 a Monte Grotto, in provincia di Padova. Tra poco il silenzio dell'apnea lascerà il posto al tintinio del suo fioretto e momenti così saranno solo uno splendido ricordo sulla strada per Tokyo. Grazie a tutti.